partiti e sono i due atleti di Borcia che si portano in testa e del resto gli altri avevano anche faticato nelle gare precedenti però Pusciol e Bertolo allungano e vanno a chiudere mentre le tribune sono grevitissime ed è partita anche questa seconda semifinale ed è Scassellati in testa seguito da Lorenzoni Scassellati Lorenzoni poi Abis, poi Siviglia Scassellati Lorenzoni attenzione si aprono ed è Scassellati davanti a Siviglia